Immagina un mondo dove gli impianti ad aria compressa sono completamente digitali e dove sono le macchine ad analizzare i dati di funzionamento in tempo reale. Immagina un sistema di gestione intelligente dei flussi in grado di aumentare l'efficienza, riducendo i tempi di fermo e i costi di esercizio. Gardner Denver presenta Icon, una piattaforma digitale aperta basata su cloud per impianti ad aria compressa, un sistema creato su misura per te. L'internet delle cose è già qui, nella vita di tutti i giorni. La tua auto ti dice quando qualcosa non va o ha bisogno di manutenzione. Il tuo smartphone controlla la domotica con un'app, tiene traccia delle consegne dei tuoi acquisti, tiene monitorata la tua salute. Icon ti offre la tecnologia di Industria 4.0 per l'installazione di impianti ad aria compressa in tempo reale per la tua assoluta tranquillità. Niente più interruzioni di produzione per tempi di fermo improvvisi e prestazioni non ottimizzate. Fonte di incertezza, extra costi e scarsa produttività. Icon individua i potenziali problemi. L'app dedicata ti invia le notifiche e il dashboard ti mostra le informazioni dettagliate. Ma non avrai bisogno di effettuare l'accesso perché il tuo distributore avrà già preso in carico l'attività. Sei connesso con Icon. Icon prima connette i compressori, il cuore pulsante del tuo impianto, poi gli elementi a valle, come i filtri, gli essiccatori, i generatori e anche le tubazioni che alimentano la rete. Informazioni dettagliate che fornescono analisi di dati prima predittivi, poi cognitivi, per offrire ai nostri clienti un servizio eccellente. Il monitoraggio di un impianto ad aria compressa completo che include le attrezzature a valle e tiene conto delle condizioni ambientali consente un controllo perfezionato grazie alla comprensione analitica ottimizzata, mantenendo i macchinari sempre efficienti e garantendo alta efficienza energetica con tempi di fermo ridotti e minori costi di esercizio. Icon garantisce la visibilità dei tuoi impianti ad aria compressa in tutte le zone possibili, in tutti i continenti. I vantaggi sono notevoli. Icon è in grado di inviare analisi, informazioni dettagliate e notifiche in tempo reale a qualsiasi dispositivo, piattaforma o servizio. Comunicazione proattiva, sicura e in tempo reale, sempre a portata di mano. Icon è una piattaforma aperta universale ideale per il retrofit degli impianti che montano compressori di qualsiasi marchio. Per un'esperienza digitale globale sui servizi degli impianti ad aria compressa, Icon ti connette con il futuro. Icon, la tua piattaforma digitale per i tuoi impianti ad aria compressa.